Rapine in concorso, ricettazione e in debito utilizzo di carte di credito sono i reati contestati nei confronti di Andrè Balderi e Damiano Jacopinelli, entrambi 29 anni via Reggini. I due sono ritenuti responsabili di due rapine avvenute a Via Reggio in via Paolo Savi. La prima commessa nella tarda serata del 23 ottobre 2019 in cui due incappucciati avevano minacciato un signore che stava prelevando al postamat e si erano fatti consegnare 600 euro. La seconda invece nella serata del 25 ottobre dello stesso anno quando, travisandosi il volto con una maschera di carnevale poi abbandonata subito dopo la rapina, preso di domina una donna che stava rientrando con il marito nel portone di casa alla quale strapparono la borsa contenente 100 euro carte di credito e un cellulare. In quell'occasione spinsero a terra la donna che dovette ricorrere alle cure del 118. Sì sicuramente come si è visto anche dei due episodi, si tratta di due episodi molto gravi, due rapine in una delle quali una donna ha riportato anche delle lesioni che hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza quindi sicuramente gli episodi gravi. Durante le indagini condotte dai militari dell'arma sono emersi numerosi elementi provatori a carico dei due in particolare dall'analisi della maschera di carnevale rinvenuta sulla scena del secondo episodio e dalle perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei sospettati nel corso delle quali sono stati rinvenuti gli indumenti indossati durante le rapine. Due episodi molto gravi che si sono verificati a distanza di due giorni ravvicinati e quindi che hanno destato anche allarme nella zona in cui sono avvenuti proprio perché si sono verificati nella stessa via. Durante le indagini inoltre i militari hanno anche accertato che lo Jacopinelli aveva poi effettuato due prelievi da 200 euro ciascuno con le carte rubate nella seconda rapina e aveva venduto il cellulare della donna ad un altro soggetto nella circostanza denunciato per ricettazione.